Musica Buonasera, buonasera a tutti voi, bentornati alla nostra redazione. Apriamo con la cronaca, pubblica le foto di pistole e fucili sui social, tirando l'attenzione dei carabinieri che hanno deciso di perquisire la sua casa, denunciando così il padre per detenzione di armi e munizioni e arrestando la sorella per detenzione e fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto a Belpasso. Ma sentiamo. La voglia di notorietà ad ogni costo ha permesso ai carabinieri di Belpasso di scoprire come in un'abitazione di Belpasso una famiglia nascondeva armi e droga il posto di un 23enne del luogo, disoccupato e con precedenti di polizia, su uno dei social network nei quali esibiva pistole e fucili, oltre che proiettili. Non sono infatti passati inosservati ai militari dell'arma, che hanno così deciso di recarsi a casa del giovane per approfondire la vicenda ed effettuare una perquisizione, avvalendosi del supporto anche dei colleghi dello squadrone riportato dei cacciatori di Sicilia. Cinturata la palazzina di due piani nella quale vive il ragazzo insieme alla famiglia, i carabinieri hanno quindi osservato i movimenti di un uomo che saliva le scale sino alla terrazza per poi rapidamente riscendere. Questo particolare ha ulteriormente convinto i militari che in quella casa ci fosse in corso una qualche attività illecita per cui è scattato il blitz. Effettivamente nel vano scala che conduce al terrazzino, i carabinieri hanno sequestrato uno zaino contenente 89 cartucce calibro 12, 24 cartucce calibro 20, due munizioni calibro 7,65, 16 proiettili calibro 9 corto e uno calibro 9x19, mentre nell'appartamento nascosto in cucina dietro un divano è stato trovato un fucile doppietta calibro 12 mai dichiarato. Tutto il materiale d'armamento appartenente al padre del ragazzo è stato ovviamente sequestrato. La bravata del giovane che per vanità aveva pubblicato online le foto con le armi illegalmente detenute dal genitore sessantenne incensurato e che percepiva il reddito di cittadinanza è quindi costata a quest'ultimo la denuncia per detenzione abusiva di armi e munizionamento e l'annullamento del beneficio economico. Tuttavia l'intervento non si è concluso qui, poiché mentre i militari stavano per lasciare l'edificio insieme all'uomo venendo accompagnati all'esterno dalla figlia, hanno scorto un locale chiuso da porte a vetri colorate al quale si poteva accedere dal giardino dello stabile. La ragazza a quel punto, compreso l'evolversi della situazione, con fare nervoso ha subito riferito di aver creato in quella parte di garage un bilocale per poter cambiare la residenza così da permettere al padre di percepire l'eredito di cittadinanza. Insospettiti dall'atteggiamento della ragazza, una 31enne disoccupata che aveva altresì iniziato a chiedere con insistenza ai carabinieri di andare velocemente via, questi ultimi hanno quindi deciso di verificare cosa ci fosse dietro quell'ingresso. I militari in quella stanza all'interno di un armadio hanno trovato 145 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina in pietra, nonché un bilangino di precisione 140 euro e anche il cosiddetto libro mastro sul quale erano stati annotati gli incassi della vendita dello stupefacente. Anche la droga è stata chiaramente sequestrata. Oltre alla denuncia del sessantenne, i carabinieri hanno quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio anche la ragazza che su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata collocata ai domiciliari. A Catania proseguono le indagini sulla morte della studentessa universitaria Chiara Adorno investita, uccisa sulla circonvallazione innanzi la cittadella universitaria. La procura ha iscritto nel registro degli indagati i conducenti dello scooter e della macchina che sono coinvolti per l'appunto nell'incidente. Sentiamo. Indagini in corso a Catania da parte della procura a Trinea per stabilire la dinamica dell'incidente in cui in meno di 48 ore addietro ha perso la vita la studentessa 19enne di Solarino Chiara Adorno investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Andrea Doria dinanzi la cittadella universitaria. Sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto i conducenti della Honda SH della Fiat Punto che hanno investito la studentessa e il fidanzato che era con lei. La ragazza dapprima è stata centrata dallo scooter e successivamente arrotata dall'autovettura. Il reato contestato è omicidio stradale. Indagini coordinate dal PM Fabio Sabatore Platania e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone ed eseguite dalla locale Polizia Municipale. Nelle prossime ore la procura di Catania darà in carico a medico legale di effettuare l'autopsia sulla ragazza. Gli esiti dell'esame autoptico potranno determinare cause e con cause del decesso di Chiara Adorno. Il quesito principale è capire se e quale impatto o entrambi abbia determinato i traumi che poi hanno portato alla morte della giovane. Intanto sono oltre 11.000 le firme raccolte in meno di 24 ore attraverso la petizione lanciata su change.org da Matteo Meli, studente del primo anno della Facoltà di Ingegneria Edile e Architetture dell'Università, per chiedere l'installazione di un semaforo pedonale o di un sovrapassaggio di fronte alla cittadella universitaria dopo la tragica morte della giovane studentessa di Solarino. Quelle stesse strisce che noi studenti della cittadella universitaria attraversiamo ogni giorno per arrivare a lezione e tornare a casa, scrive Matteo nella sua petizione. A Catania, in generale, in Italia è tradizione agire dopo i disastri e non prima per prevenire. Qualche anno fa sono state realizzate delle strisce pedonali in quel punto, precisamente di fronte all'entrata della cittadella universitaria, per attraversare una strada a scorrimento che era già stato luogo di numerosi incidenti. Ma qual è l'utilità se non c'è un semaforo pedonale? Si interroga il promotore dell'iniziativa. Chiunque abbia attraversato su quelle stesse strisce, come faccio io ogni giorno, sa bene che è un continuo slalom tra auto in corsa che non accennano a fermarsi e motorini che soppassano quelle poche auto che si fermano. E questo pericolo si amplifica la sera quando tutti gli studenti finiscono le lezioni. Mi appella a tutti gli studenti, scrive ancora Matteo Meli, e agli ex studenti dell'Università di Catania, anche se hanno sede attrove di firmare questa petizione per richiedere, anzi esigere, la realizzazione di un sovrappassaggio o perlomeno di un semaforo pedonale per tutelare tutti i ragazzi che rischiano la vita ogni giorno attraversando delle strisce pedonali mortali, gli stessi ragazzi che vengono elogiati dal comune di Catania che li definisce il futuro, ma che poi non li tutela in alcun modo e realizza opere scadente esbrigative. Pretendiamo un intervento immediato e facciamo sì che questo disastro abbia a meno uno scopo. Conclude così l'autore dell'iniziativa, Matteo Meli. Una donna di 30 anni, pregiudicata, è stata denunciata per furto dai carabinieri della stazione di Biancavilla. È stata scoperta infatti a rubare merce dai proprietari del supermercato De Codi di Arte e Mestieri a Biancavilla, supermercato che la donna di fatto aveva preso di mira. Sentiamo. Beccata con le mani nel sacco, ed è il caso di dirlo. Una donna trentenne di Adrano è stata denunciata ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Biancavilla per furto. La donna, pluri pregiudicata per lo stesso reato, avrebbe rubato in diverse occasioni merce alimentare dal supermercato Deco Superstore di Via Arte e Mestieri a Biancavilla, ad incastrarla lo stesso personale dell'esercizio commerciale grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza in dotazione. La donna, a detta del personale, aveva già effettuato un furto di bottiglie di alcol il giorno prima. Una volta vista entrare nel supermercato, quindi è stata tenuta sott'occhio dai responsabili del negozio, che così hanno potuto notare che aveva raffato delle scatolette di tonno. La donna quindi è stata bloccata e costretta a svuotare il sacco e nel tentativo di allontanarsi dal luogo continuava a dire che era incinta e che se avesse perso il bambino la colpa sarebbe stata loro. Un tentativo maldestro il suo, che tra l'altro incinta non lo è, dato che lo afferma ogni volta che viene bloccata. Tutti i momenti concitati questi che ieri pomeriggio si sono svolti in strada in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Sul posto poi sono arrivati i militari dell'arma che hanno così proceduto a denunciare la donna a piede libero come disposto dall'autorità giudiziaria. Incidenti stradali a Paternò e a Valverde, dove nelle scorse ore due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un quattordicenne e di un trentacinquenne. Vediamo. Ancora incidenti stradali sulle strade del Catanese. Un incidente si è verificato a Paternò nei pressi della rotatoria che si trovava fra Corso Italia e Viale dei Platani. A scontrarsi due mezzi, un SUV Hyundai guidato da un 74enne di Paternò e un ciclomotore 50 condotto da un quattordicenne di Belpasso. A seguito dell'impatto il ragazzino è caduto a terra procurandosi diverse scoriazioni. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi. A intervenire dapprima sul luogo dell'ingente è stata una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia che era in transito nella zona. Militari dell'arma che hanno agevolato le operazioni di soccorso del ragazzino è gestito la viabilità. Successivamente sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti. Altro incidente a Balverde la notte scorsa in via Conte Paternò del Grado all'intersezione con Vienizetti. Ferito un uomo di 35 anni e 10 reali il quale è ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione del cannizzaro di Catania con prognosi riservata. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della tenenza di Mascaluccia giunti sul luogo del sinistro per il rilieve del caso si tratterebbe di un incidente autonomo. L'uomo per causa in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentamente contro un muretto lungo l'arteria stradale. Sul posto i pompieri del distaccamento di Acerreale che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto dalle leminiere contorte l'uomo rimasto ingastrato dentro l'autovettura. Portata a Cannizzaro di Catania in 35 anni è stato operato in nottata avendo riportato fratture a gambe e avambraccio. Un rapace ferito è stato recuperato questa mattina a Biancavilla e trasportato dalla forestale al centro recupero fauna selvatica dove lì sarà curato. Ma vediamo. Un falco lanario ferito è stato recuperato e trasportato questa mattina presso il centro ripartizione faunistico Venatoria di Valcorrente per essere curato. Il volatile era sul tetto di un'auto del deposito dei fratelli Furner incontrata Ciccolinusa a Biancavilla. È stato il proprietario stesso ad accorgersi dell'animale ferito all'ala sinistra, forse da un colpo d'arma da fuoco e ad allertare la polizia locale. Immediato l'intervento di una pattuglia che era in zona per un controllo edilizio insieme al geometra del comune Paolo Pinnale. Allertato poi il corpo forestale è giunta sul posto la squadra del distaccamento di Adrano con in testa il comandante Roberto Liotta che una volta recuperato il falchetto è stato condotto al centro di Valcorrente dove come detto sarà curato e successivamente rimesso in libertà. Questa mattina nella sede Anas di Mister Bianco è stato piantato un albero duplicato dal ficus di Giovanni Falcone presente per l'appunto l'albero davanti la casa del magistrato assassinato dalla mafia nel maggio del 1992. A Mister Bianco questa mattina presso la sede Anas si è tenuto l'evento un albero per il futuro, l'albero di Falcone. Nel giardino a distante della sede Anas infatti alla presenza dell'autorità è stato piantato un albero duplicato dal ficus che cresce nei pressi della casa dove risiedeva Giovanni Falcone assassinato dalla mafia nel 1992. Grazie alla collaborazione fra i carabinieri e la fondazione Falcone Comune e sovrintendenza di Palermo infatti alcune gemme del ficus sono state duplicate nel moderno centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale all'avanguardia in Europa nello studio e conservazione di specie forestali autoctone. Le nuove piante generate dal ficus originario sono già state donate a centinaia di istituti scolastici di primo e secondo grado nonché svariati endi pubblici. All'evento erano presenti il vice prefetto di Catania Antonio Gullì, comandante del repatto carabinieri biodiversità di Reggio Calabria e Giuseppe Michalizzi, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Catania Sergio Parisi, il vice sindaco del Comune Mister Bianco Sandro Tirendi, il vice dirigente della postrada di Catania Angela Cannarozzo, il comandante della postrada di Siracusa Antonio Capodicasa, nonché il responsabile della struttura territoriale dell'ANAS Raffaele Cerie e il responsabile area gestione rete Catania Nicola Dinella. Un viaggio avventuroso all'insegna anche dell'amicizia e della solidarietà e quello fatto in Tunisia attraversando anche il deserto del Sahara dai soci del club Normanni in 4VD. Vediamo le immagini. Una splendida avventura carica anche di momenti di solidarietà e quella fatta da un gruppo di appassionati del 4x4 sono gli associati del club Normanni in 4VD che racchiude partecipanti di Paternò Adrano, Motta Sant'Anastasia e Belpasso, un tour avventuroso e emozionante che ha segnato nell'animo chi vi ha partecipato la meta scelta alla Tunisia, 5 gli equipaggi composti da 10 persone partiti per questa meravigliosa avventura a guidare il gruppo il paternese Gaetano Landro, presidente del club. Landro non è nuovo a questo tipo di viaggi che combi ormai da 15 anni a livello personale per un arricchimento spirituale portando con sé beni e cibo per i bambini poveri. Quest'anno per la prima volta ha pensato di portare con lui i soci del club, associazione nata 4 anni fa. Un tour impegnativo che ha visto come tappa fra le altre anche il deserto del Sahara, attraversare le dune, affrontare le varie difficoltà tutti insieme, aiutarsi a vicenda, un modo per rinsaldare ancora di più l'amicizia ma senza dimenticare anche la missione non scritta ma che viene dal cuore di chi ama, portare un po' di sollievo alle popolazioni povere. Il gruppo di fuoristradisti infatti risalendo ha attraversato diversi villaggi incontrando famiglie e tanti bambini. Qui si è fermato distribuendo vestiti, merende, dolci e tanto altro, gesti accettati con molto piacere dai piccoli e dalle loro famiglie. Landro, il presidente del club, organizzatore del viaggio, quest'anno ha portato con sé per la prima volta il figlioletto di appena 13 anni che è emozionato e commosso nel vedere quei bambini, ha esclamato papà noi siamo fortunati, non ci manca nulla. Un viaggio come detto anche carico di significato quindi non solo avventura, divertimento, scoperte di nuovi posti ma anche pura umanità. E allora tanti complimenti a questi ragazzi che hanno già manifestato di voler riprovare le stesse emozioni partecipando nuovamente al prossimo tour. Domani a Paternò alle 19 nei locali del Santuario della Madonna della Consolazione si terrà un incontro di formazione rivolto ai componenti delle confraternite dal titolo La Parola, camminare insieme alla luce della parola del Signore. Ad intervenire saranno Alfio Corsaro, governatore della confraternita Santa Maria della Consolazione di Paternò, il rettore del Santuario Rionino, padre Miguel Sanchez Pedrañas, Dino Laudani, presidente della Confederazione delle confraternite dell'Arcidiocesi di Catania, Don Giovanni Battista Zappalà, responsabile dell'ufficio diocesano per i ministeri istituiti e Antonello Longo, consigliere per l'appunto della Confederazione delle confraternite della Diocesi di Catania. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e a voi tutti l'augurio di una buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS